musica 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 forza granata chiammi più forte no no io non voglio parlare della salernità che ogni volta che mi gioco la salernità mi fa perdere sempre le bollezze è un grande missile il problema è il sistema di gioco 4-4-2 4-3-3, 3-5-1 in questi modi che cambia non si deve avere una formazione giusta per me è un grande missile, bisogna solo un po' di tempo ci dobbiamo dare fiducia buona partita, buona vittoria grazie alle poche persone che sono venute oggi perché abbiamo fatto una grande prestazione però a differenza della settimana scorsa si è visto un po' di miglioramenti, la squadra ci ha messo più grinta no non è mai qui oggi è vinto e non è giocato è sempre controllo dito però, viva il missile a basso il Presidente San Nino resta tranquillo la squadra è pensate a far mettere i piedi in avanti su perché questa vittoria non è che è grande si abbiamo guadagnato i tre punti mancherebbe da tre si va a sei però siamo là, noi dobbiamo stare al di sopra del Benevento San Nino è un ottimo allenatore anche se non viene da campionati importanti però può darsi che l'allenatore è giusto per la Salernità ma per quest'anno la prima cosa è il giornalista che è quello che si deve accattare cioè non accattare si deve far capire quel giornalismo perché quel giornalista è quello che ha più pazienza è quello che ti porta in prima linea è il giornalista non trattarlo male significa avere male figli anche il ragazzo dove mi gioco le bollette anzi mi darà due euro perché la vittoria e la Salernità mi ha perso questa partita mi può indusermiare già non credo perché bisogna andare avanti e continuare ancora perché la Salernità ha perso molte occasioni vedi per esempio il Cittadella il Cittadella ha perso proprio non ha giocato proprio ha perso addirittura e allora bisogna avere pazienza i giocatori devono dare una buona mossa quello di Vitale e Donnarumma a me non mi piace Salernità io preferisco Max allenatore che ci ha fatto vincere un campionato di serie C e ci ha salvato e non ci ha fatto retrocedere l'hanno scorso dalla serie B ma Salernità dovrebbe essere un allenatore di categoria o mai vorrei sono anche Salerno innamorato e ma fa pera a stagione faccio il bagno in da gustiera vanno girando per quartiera l'allenatore gli fanno i giocatori non l'allenatore gli giocatori fanno l'allenatore il più grande presidente è Sant'Arella Liberti un più brutto perché i fisici di soldi fa la Salernità e ci ha fatto un pallone più a presto Salerno deve diventare grande quelle delle partite scorse erano tutti tira piedi non erano tifosi della serenità pochi ma tifosi originale Quarta Granata come è bella un tramonto che ci vista ieri sono che Salerno e dico grazie a mamma